Innanzitutto da un punto di vista geofisico il territorio si presta per quel tipo di coltivazione e poi ovviamente ci sono degli interessi nell'aria che portano a questa proliferazione di queste piantagioni. Ci sono state diverse operazioni condotte sia dalla compagnia di Tropea, in particolar modo dalle due stazioni di Nicotra e Nicotra Marina, sempre con il supporto dello squadrone di Portato Cacciatore e poi all'occorrenza anche di altri reparti come l'ottavo nucleo elicotteri o comunque il battaglione di Vibo Valencia. Sono diverse operazioni che appunto hanno potuto permettere di fare una vera e propria mappatura del territorio sia per quanto riguarda le aree coltivate che quelle di veri e propri depositi. La cittadinanza di Nicotra sta rispondendo molto bene a quelle che sono state le nostre iniziative di polizia giudiziaria e hanno trovato sicuramente il plauso della cittadinanza e che sicuramente sono per quanto riguarda noi un elemento di forte valore aggiunto. I soggetti, soprattutto quelli che coltivano, quelli che spacciano, non sono assolutamente persone legate alla criminalità organizzata del territorio. Sono persone che magari hanno piccoli precedenti o persone proprio incensurate.